Dal Veneto per stabilizzarsi a Tortora dopo aver esplorato in lungo e in largo la penisola, Manuel Massarotto e Sara Cescon sono partiti nell'aprile 2016 alla ricerca di un posto dove vivere in armonia con la natura. Si sono spinti fin giù in Sicilia ma solo qui nelle zone rurali di Tortora nell'aprile 2017 hanno trovato tutto ciò di cui avevano bisogno. Tortora fondamentalmente ha tutto, ha tutto ciò che noi cercavamo. Un viaggio è durato un anno, esattamente un anno perché siamo partiti nell'aprile 2016 e ci siamo fermati definitivamente nell'aprile 2017. Tortora rappresenta la perfezione perché ha il mare bellissimo, ha una montagna impressionante, una montagna vera, viva, forte, purtroppo è un po' rovinata dagli incendi di quest'anno. E poi una vegetazione, una terra vera, buonissima perché appunto coltiviamo e quindi ci consente di vivere. La natura è ancora incontaminata, molto di più che in altri posti appunto che abbiamo visitato durante questo nostro viaggio. Tortora terra promessa quindi, paradiso da custodire e da preservare, come ci ha spiegato Manuel Massarotto. La nostra è stata un po' una fuga dalla città e già lì abbiamo assaporato un'esperienza con l'orto. In città trovi questi orti in affitto e noi iniziamo qualche anno fa ad affittare un piccolo orto. Era la nostra piccola oasi dove respirare, dove cambiare aria, dove staccare dalla frenesia della città. E questo orto ci ha dato delle soddisfazioni. Lì abbiamo iniziato a giocare con la permacultura, le sinergie, tutta una conoscenza sulle piante. Comunque entrambe avevamo origini campagnole, però si viveva in città. Quello che noi abbiamo trovato adesso è una terra che dà, abbiamo trovato le piante, abbiamo piante che danno per ogni stagione. Per cui tutta una serie di cose che aiutano anche un'economia più sostenibile. La Calabria è un territorio bellissimo, ha questi parchi naturali che dettano legge di loro. C'è un mare ancora bellissimo e noi qui abbiamo iniziato a dire ci piace, senza dover per questo andare all'estero dove si va in Grecia, in Spagna. Adesso tutti si va via, chi per lavoro, chi per cercare una terra migliore. Io direi che in Italia dopo il nostro viaggio possiamo dire che c'è tutto. Una scelta coraggiosa che ha portato Manuel e Sara ad abbandonare le proprie sicurezze economiche e sociali. Non di solo pane vive l'uomo, ma si può vivere di altro, per esempio di creatività. Di qui la compagnia sul filo, portavoce di un teatro innovativo. Sara infatti è attrice e autrice con esperienze anche all'estero. Manuel è chitarrista e gliutaio. Tutto si fa artigianalmente grazie alla creatività. Nasce da un'attenzione all'aspetto pedagogico che non si limita al bambino, come magari la parola può sembrare, ma che vuole essere pedagogico anche per l'adulto, quindi vuole insegnare. Il nostro teatro è ricco di messaggi educativi, morali, che partono dall'autobiografia, comunque da racconti veri. Nella maggior parte delle volte c'è proprio un partire da quando ero piccola per poi andare avanti e in un qualche modo rispecchiarsi in tutti quelli che stanno guardando, ascoltando e sentendo con il cuore le parole che partono e la musica che l'accompagna. I burattini, certo, sono rivolti più ad un pubblico più piccolo, ma pensano ad un pubblico piccolo che un giorno sarà umano, sarà grande, sarà uomo, sarà donna. Cerchiamo in un qualche modo di mettere piccoli semini di grandi aspetti morali, per cui piccoli semini che cercano di insegnare il rispetto per l'ambiente, la paura degli incendi, il trovare anche un perché di questi incendi e anche il modo di poterli superare, quindi trovare il coraggio di far sì che la montagna possa nuovamente rigenerarsi. Con la musica faccio gli strumenti, mi occupo di costruirli, di ripararli e di suonarli. Nasce da lì la necessità di costruirli per avere dei suoni propri e sentire propri che poi utilizzo nel teatro che facciamo, riesco addirittura a aver soddisfazione col materiale classico che a livello concertistico è un po' hard da presentare perché o sei nel teatro con un pubblico che ama certi repertori o se no devi esibirti con le chitarre elettriche per dirsela semplice, no? Mentre col repertorio classico riesco ad avere soddisfazione nelle varie esperienze teatrali che ho avuto in Toscana e con Sara. Un giorno avrei sognato di avere un laboratorio su un bellissimo panorama collinare con il mare vicino e assomiglia molto a questo posto che abbiamo trovato qui in Calabria. Insomma, dal Veneto a Tortora, dal nord al sud. Una storia controcorrente visto che i giovani tendono a fuggire e l'amore per la propria terra non è sempre vivo in chi qui risiede. Forse la creatività ci salverà. Bene si può stare ovunque se noi lo vogliamo. Per cui molto spesso le persone buttano fuori delle cose che hanno accumulato e negano lo spazio a queste visioni più positive della vita. Noi stavamo bene sia a nord che ora a sud. Cerchiamo di attrarre con la nostra energia, la nostra creatività, ecco quello che dico a tutti i ragazzi, a tutte le persone, comunque di non stagionare su atteggiamenti, modi di fare, lamentosi e incostruttivi, ok? Piuttosto investire in creatività, invenzione. Cioè l'uomo, ecco più che parlare di nord e sud, parliamo dell'essere umano, dell'uomo. L'uomo deve essere creativo. Se una cosa non gli va bene deve darsi da fare per cambiarla. Per cui se ai ragazzi di qua non piace il territorio per qualche motivo è ora che più che lamentarsi iniziano a fare qualcosa, andare magari dalle persone più adulte, farsi aiutare e comunque inventarsi qualcosa. Ecco, questo è necessario ovunque su questo pianeta. Senza creatività si può cadere nella solita solfa e non è più simpatico dopo un po'.